Ciao a tutti ragazzi, io sono Raffaele di servizi WordPress è stata rilasciata la nuova versione di Elementor Free 3.0 andiamo a vedere insieme quali sono le novità mi trovo sul sito web di Elementor e di solito viene fatto un blog post quando c'è una novità questa release è talmente nuova che ancora non è stato rilasciato nessun blog post e anche nei gruppi Facebook ancora non c'è nulla stavo aggiornando alcuni siti web e ho visto la nuova versione di Elementor 3.0 è stato fatto un rebranding, come vedete il logo è stato cambiato ne avevo parlato anche nei video dove parlo delle beta di Elementor 3.0 e di Elementor Pro 3.0 e adesso andiamo a vedere nel dettaglio che cosa è cambiato le varie impostazioni sono le stesse come prima viene spostato soltanto lo stile che viene importato all'interno del builder come global setting poi tutte le altre integrazioni avanzato non cambiano nella versione di Elementor se avete anche la versione Pro come vedete ci sono due Tem Builder uno corrisponde al Tem Builder attuale quindi se dovete fare delle modifiche cliccate sul primo Tem Builder all'interno del classico Tem Builder mentre nel Tem Builder la seconda opzione viene presentato quello che è il nuovo Tem Builder ma ancora non è operativo perché finché non verrà rilasciata la versione Pro di Elementor 3.0 non sarà operativo come funziona Elementor 3.0 andiamo a vedere quali sono le novità qui mi trovo in una pagina da questa homepage di un sito di test troviamo come al solito modifica con Elementor qui in alto il nuovo logo abbiamo il Tem Builder ma ancora non è funzionale non funziona ancora non è funzionale è funzionante perché ci riporta al nuovo Tem Builder ok quindi a breve sicuramente verrà rilasciata la nuova versione anche del Pro per far sì che questi tasti aggiuntivi che ci sono funzioni correttamente con la versione di Elementor Pro ritorniamo di nuovo sul Builder clicchiamo su modifica con Elementor e entriamo nella pagina come vedete il Page Builder si apre come prima non è stato modificato nulla e abbiamo la nostra pagina e sulla sinistra troviamo tutti i widget di Elementor versione free e per chi ha installato Elementor Pro anche i widget di Elementor Pro fino a qua non è cambiato assolutamente nulla è cambiata la scritta del Page Builder qui in alto Elementor e qui sulla sinistra se andiamo a cliccare come vedete ci sono delle impostazioni differenti aggiornate rispetto a quelli che erano i setting che trovavamo prima in Elementor quindi hamburger icon qui in alto a sinistra clicchiamo e troviamo nelle impostazioni site setting 10 builder user preference con delle icone diverse poi abbiamo ancora il find anything per cercare qualcosa all'interno di Elementor visualizzate la pagina in anteprima e torna la bacheca per tornare in dettaglio alla bacheca andiamo a cliccare sul site setting e come vedete si aprono tutti i possibili settaggi tutte le possibili impostazioni del team builder ok abbiamo la novità dei global colors dei global fonts lo stile del tema possiamo andare a impostare lo stile del tema che stiamo utilizzando ovvero dare uno stile quando iniziamo a creare il nostro sito web andare a stabilire la tipografia i pulsanti, le immagini i campi del modo e li ritroveremo già pronti all'interno delle pagine che andiamo a costruire in più abbiamo il site identity lo sfondo layout lightbox CSS personalizzato e additional setting ci riporta quelle che sono le impostazioni iniziali di Elementor 3.0 free andiamo a vedere i global colors i global colors vanno a sostituire quella che è la precedente palette di colori ok da qui possiamo andare a crearci la nostra palette di colori inserendo un colore principale un colore secondario il colore del testo il colore risalto e altri possibili colori che poi possiamo andare a utilizzare all'interno dei nostri layout in più possiamo andare ad aggiungere i nostri colori personalizzati se utilizziamo un colore personalizzato per esempio una tonalità chiara di di un nero per esempio nero chiaro lo possiamo andare a inserire all'interno della della nostra palette e verrà registrato ok qui potete fare tutte le modifiche andare a cambiare i colori e crearvi la vostra palette principale di colori tornando indietro stessa cosa per i font possiamo andare a inserire un font principale un font secondario un font che va inserito nel testo quindi potrebbe essere principale per i titoli secondario per i sottotitoli testo andiamo a inserire quello che è il testo il body del del testo dei nostri blocchi e in più possiamo andare a stabilire anche un font per dei testi in risalto ok quindi font principale roboto per esempio roboto slab è il font secondario potete andare a scegliere tra tutti i font che sono presenti all'interno della tipografia di Elementor e così via per tutti gli altri font che volete utilizzare all'interno dei vostri layout in più potete andare ad aggiungere come abbiamo fatto prima un font personalizzato ok potrebbe essere un font che utilizzate soltanto per dei testi specifici ok un font particolare anche qui una volta che abbiamo fatto questi setting li andiamo a ritrovare all'interno dei layout quando andiamo a costruire i nostri layout stile del tema da stile del tema possiamo andare a stabilire prima di iniziare a lavorare sul nostro tema quindi se state partendo da zero con un layout state iniziando a costruire quello che è il vostro tema quello che è il vostro sito web potete andare a stabilire anche quella che è la tipografia principale ok possiamo andare a stabilire il colore del testo stabilendo un colore specifico altrimenti possiamo andare a prendere i colori che abbiamo inserito all'interno della tavolozza dei colori stessa cosa per la tipografia possiamo utilizzare i global font o andare a scegliere un font all'interno della tipografia di Elementor possiamo già stabilire la spaziatura di un paragrafo possiamo andare a stabilire qual è la misura che vogliamo utilizzare o altrimenti possiamo andare a vedere le diverse visualizzazioni per quei font già quando stiamo stabilendo quella che è la tipografia che andiamo a utilizzare all'interno del nostro layout quindi potete preimpostare tutti i parametri di tipografia di colori prima ancora che iniziate a creare il vostro sito web per fare questo prendete una pagina bianca magari inserite un layout o inserite dei testi e vedete poi come si visualizza su desktop tablet e mobile andate a stabilire quelle che sono le misure dei vostri font e i colori dei vostri font potete andare a scegliere il colore dei link anche qui potete scegliere un colore dal color picker o altrimenti andare a scegliere un colore già stabilito nella vostra tavolozza di colori stessa cosa per la tipografia qui parliamo di link andate a scegliere una tipografia particolare soltanto per i link un colore particolare soltanto per i link anche per quelli che sono i titoli i sottotitoli gli h1 gli h2 gli h3 gli h4 gli h5 stessa modalità ok in più quindi potete andare a scegliere un colore specifico un colore dai global font e una tipografia in più potete se volete andare per esempio parliamo degli h1 mi accorgo che voglio cambiare in qualcosa sugli h1 ho scelto il taoma per esempio posso andare ad aggiungere un nuovo global font ok una volta che ho stabilito tutti i miei parametri vado a cliccare su global font e qui vado ad aggiungere un nuovo global font e questo aggiungerà alla mia tipografia globale il nuovo global font quindi agli h1 se ho scelto il taoma vado ad applicare quel nuovo global font qui siamo ancora in fase di impostazione e potete fare configurare tutti gli altri parametri che trovate nella tipografia selezionando il colore o scegliendo dal color picker o dai colori globali ok una volta fatto questo ho sceltito tutti i parametri possiamo tornare indietro e possiamo andare anche a stabilire le impostazioni per altri per i widget per esempio per i pulsanti per le immagini per i campi modulo quindi andiamo nei pulsanti e possiamo andare a scegliere una tipografia per il pulsante di quelle che stiamo abbiamo già stabilito precedentemente nei global font o andarne a scegliere una dalla sempre dalla tipografia di Elementor ok se volete modificare qualcosa in qualsiasi punto vi trovate i vostri global font cliccate su questa specie di mappa mondo in alto a destra c'è una rotellina come vedete e potete cliccare sulla rotellina per andare nell'impostazione di global font di nuovo e modificare quello che volete modificare ok ritornando ai pulsanti potete stabilire qualsiasi parametro volete per i vostri pulsanti e troverete successivamente le modifiche all'interno del layout che state utilizzando una cosa che vi dico è se avete importato un layout dalla libreria dalla libreria di Elementor scusate e ha degli stili preimpostati quello che potete fare è annullare lo stile vi faccio vedere come come si fa ad annullare lo stile per far sì che quel layout prenda direttamente i parametri dalle impostazioni che avete dato nei global setting ok anche per i pulsanti potete andare a modificare i colori i testi i font immagini stessa cosa potrete prendere una immagine e creare un layout direttamente nell'immagine ok se date un'impostazione un raggio del bordo un'opacità all'immagine da qualsiasi cosa impostato un'ombra di quadro all'immagine la ritroverete poi nelle immagini del vostro layout campi modulo stessa cosa se c'è un modulo di contatto all'interno del layout in questo layout c'è soltanto l'opt-in potete andare a modificare tutte le impostazioni dare delle impostazioni predefinite mano a mano che create la pagina ogni modulo di contatto che inserite avrà l'impostazione che avete dato in fase di definizione e stessa cosa le immagini e i pulsanti ok la cosa interessante che va ad aggiungersi alle impostazioni di Elementor 3.0 è quella del site identity che cos'è il site identity quando iniziate a creare un sito web di solito da wordpress dovete andare nel personalizzatore di wordpress quindi in aspetto personalizza e poi andare a inserire anche nelle impostazioni generali di wordpress per alcune funzionalità dovete andare a inserire il nome del sito web e la descrizione del sito web in più poi dovete andare a inserire sempre passando da wordpress il logo e la site 5 icon che è questa iconcina che vedete qui in alto Elementor vi dà la possibilità di farlo direttamente dal page builder ok quindi se dovete inserire un logo del vostro sito web e poi magari richiamarlo con il widget logo di Elementor andate a scrivere inserire il nome del vostro sito web cambiare la descrizione la cambiamo anche qui e poi potete andare a scegliere il vostro logo ok e inserirlo nel sito web e stessa cosa per la 5 icon che è questa iconcina qui che vedete qui in alto ok vediamo se la prende forse dopo quando clicchiamo su aggiorna e potete andare a cambiare queste impostazioni direttamente da Elementor senza passare da Wordpress tante volte mi è capitato che gli utenti mi chiamano come si inserisce il logo perché qui Elementor non lo prende o mi scrivono o vengono in chat e quindi questo è un passaggio in meno da fare con Wordpress lo potete fare direttamente con Elementor potete cambiare uno sfondo se avete bisogno di cambiare lo sfondo tante volte si creano delle landing page box quindi strette e se c'è bisogno di inserire un colore di sfondo potete cambiarlo da qui e addirittura potete andare a cambiare anche il colore che si vedrà su mobile layout le impostazioni che precedentemente avevamo su all'interno degli strumenti di Elementor li abbiamo direttamente nel page builder possiamo andare a cambiare la larghezza del contenuto la spaziatore di widget il body il tema e visualizzare i vari breakpoint e modificarli dal layout setting ok lightbox possiamo andare a modificare quelli che sono i colori le aperture e le impostazioni della lightbox CSS personalizzato volete inserire un codice CSS che vada a prendere tutto il sito web se è un codice particolare volete applicare su tutto e non sul singolo elemento elemento lo andate a inserire qui additional setting ci riporta nella pagina delle impostazioni di Elementor dove c'è lo stile che abbiamo visto all'interno di Elementor le integrazioni e alcune funzionalità avanzate gli strumenti rimangono dove sono quindi se dovete rigenerare il CSS sincronizzare la libreria cambiare alcune impostazioni sostituire le url tornare a una versione precedente o attivare la modalità manutenzione basta andare sotto strumenti ok una volta che abbiamo fatto tutte le modifiche abbiamo impostato i global font i global color abbiamo stabilito quali sono le impostazioni dello stile del tema e abbiamo modificato le impostazioni del site identity per applicare le modifiche basta cliccare su aggiorna ok e verranno impostate tutte le modifiche tornando indietro per chiudere il site il site setting clicchiamo qui in alto e ci riporta di nuovo nel builder tem builder cliccando qui si apre il nuovo page builder che ancora non è attivo ok dobbiamo aspettare la nuova versione del build dell'elementor pro user preference clicchiamo su user preference da qui possiamo scegliere la modalità come era prima di colore chiaro o scuro di elementor una novità è il panel la larghezza del pannello ok la larghezza di questo pannello qui potete stabilire se lo volete fare un po' più grande o un po' più stretto rispetto a quella che è la sua grandezza originale ok potete andare a stabilire da qui la larghezza di questo pannello maniglie di modifica che sono esattamente queste qui ok vado su un widget qualsiasi appare la maniglia di modifica potete attivarla e disattivarlo e disattivarlo stessa cosa la lightbox find anything rimane come prima visualizza pagina ci serve per andare a visualizzare la pagina ok si aprirà la pagina con tutte le modifiche e per il resto rimane tutto invariato se andiamo a vedere quelli che sono i widget ok andiamo a cliccare su un widget specifico tasto destro abbiamo le varie impostazioni come prima per dubbicare modificare l'intestazione copia incolla incolla stile imposta stile il reimposta stile era esattamente quello che vi dicevo prima se state su un widget che ha già un'impostazione perché avete importato il layout basta andare su reimposta stile cliccare e verrà riportato esattamente all' impostazione iniziale di base se avete dato delle impostazioni nel time setting nel global style ritroverete quelle impostazioni nel widget ok quindi nella tipografia se avevamo impostato l'h1 l'h2 l'h3 l'h4 con dei diversi font li avremmo ritrovati esattamente qui in questo widget tipografia se clicchiamo globale abbiamo messo fonte personalizzato come vedete se adesso andiamo all'interno viene impostato quel fonte personalizzato che abbiamo inserito all'interno della tipografia globale possiamo scegliere anche il colore sia dall'elenco dei colori che abbiamo dato prima quindi posso scegliere il mio nero chiaro ok sia dal colore diretto dal color picker color picker di elemento se clicco di nuovo sulla tipografia posso andare a stabilire l'altezza riga gli spazi il peso e la dimensione tutto ciò lo potete impostare già nello style setting ok stessa cosa per le altre impostazioni anche qui questo è un pulsante già impostato se facciamo un'imposta stile come vedete prende lo stile iniziale e se avevamo definito già precedentemente uno stile va a prendere quello altrimenti possiamo andare a scegliere il nostro fonte personalizzato anche qui e successivamente possiamo andare a scegliere il colore dalla nostra tavolozza di colori ok il testo possiamo mettere il nero per esempio e lo sfondo il classico bianco o classico verde qualsiasi cosa volete inserire e il testo se non vogliamo utilizzare il nostro colore personalizzato andiamo a inserire il bianco e poi possiamo andare a modificare tutte quelle che sono le impostazioni del pulsante ok questo vale per tutte le impostazioni che troviamo all'interno del layout che stiamo costruendo come vedete è abbastanza semplice anche se volete andare a modificare poi successivamente o aggiungere un colore e uno stile o qualsiasi cosa volete aggiungere anche qui possiamo andare a scegliere il nuovo colore e scrivere nuovo colore rosso per esempio ok clicco crea e me lo ritrovo successivamente all'interno della tavolozza dei colori stessa cosa vale per il nostro font se voglio cambiare velocemente il font perché questo non mi piace più posso andare a modificare il font ok e inserire nei global nuovo font bello clicco crea e all'interno dei font troverò il nuovo font bello con la preview del font che sto utilizzando questi ragazzi sono le varie impostazioni che possiamo utilizzare con Elementor Free Elementor Pro andrà ad aggiungere quelle che sono le funzionalità del Tem Builder ok se volete approfondire il tema Elementor Elementor Free e Pro servizi WordPress trovate il corso Elementor Master dove ci sono più di 60 lezioni ragazzi dove approfondire veramente tutto quello che c'è da sapere su Elementor Elementor Free Elementor Pro e su come andare a creare un sito web con Elementor in più dopo che avete creato il vostro sito web molti mi chiedono adesso che cosa facciamo quello che dobbiamo fare è andare a catturare gli indirizzi email dei nostri utenti quindi ho creato anche per andare a ampliare quella che è la vostra rete di contatti e andare a cercare di avere più di convertire i leads quindi gli utenti che passano il vostro sito web in clienti c'è anche il corso Elementor Leads trovate anche diversi corsi gratuiti per Elementor quindi c'è il corso WordPress gratuito se volete imparare in più su Elementor corso base Elementor free completamente gratuito un mini corso Elementor che è piccolo estratto del corso Elementor Master dove potete imparare a usare Elementor per creare un sito web corso Elementor Leads per catturare i lead corso Elementor Master lo trovate su serviziwp.it e mi trovate anche sul sito di Elementor io sono Raffaele nella parte dedicata ai community leaders facciamo dei meeting online con il supporto di Elementor nella comunità italiana di Elementor ancora non ufficiale Elementor in Italian Community mi trovate anche su Meetup organizziamo dei meetup dei meetup online con Giuseppe che è un altro leader della nostra community e tutti i ragazzi che ci seguono credo di avervi detto tutto in questo video ragazzi riguardo Elementor vi saluto ciao continuate a seguirmi mettete iscrivetevi nel canale youtube e mettete la notifica così vi arriveranno i nuovi video ciao a presto da Raffaele ciao a presto ciao a presto ciao a presto